Musica Ciao ragazzi bentornati su Passone Modellismo Oggi continuiamo con la serie dedicata alla moto di Valentino Rossi La M1YZR Nulla ragazzi oggi arriviamo fino al fascicolo 44 E nulla, prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale A lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto E sfruttate i commenti per dire la vostra Dai partiamo subito col fascicolo numero 40 Non perdiamo tempo perché devo registrare un sacco di altri contenuti E ho solo oggi, ho solo questa giornata quindi meglio che mi devo muovere Vai, iniziamo subito col fascicolo numero 40 Sto vedendo dei bei componenti giganteschi qui eh Spero che si tratti del telaio Ora non ho guardato ancora all'interno dei fascicoli Perché ho fretta e anche perché non lo faccio Per rispetto anche di chi guarda il video Così almeno è tutto a scatola chiusa Vai, iniziamo col numero 40 Partiamo quindi con il fascicolo numero 40 E questi sono i suoi componenti Qui andremo a trattare la monotrave di sinistra del telaio Infatti come componenti abbiamo ovviamente la monotrave Ecco cos'erano i componenti giganteschi Sì, si tratta comunque di telaistica Quindi melomale Cominciamo ad assemblare un po' di cose belle, belle e corpose Quindi la monotrave di sinistra Quindi il lato sinistro Poi abbiamo il supporto inferiore della carena E il supporto superiore della carena Un innesto del tubo Questo qua piccolino Poi il tubo ovviamente E viti di tipo V e I Quindi Vicenza e Imola Che invece nel fascicolo Vengono trasmesse come F e G Quindi la V sta per F e la I sta per G Non so perché questo cambio di numero Cioè di lettera però Va bene anche così Vai, partiamo subito con il primo montaggio Allora, la prima fase del montaggio è molto semplice Andiamo a recuperare il supporto superiore della catena Una vite di tipo I E dobbiamo andare a montarla nella zona anteriore del telaio Quindi esattamente qua In questa zona Più precisamente appena sotto questa fessura Quindi in questo buco qui Ok? Questo foro qui Quindi andiamo ad inserire Lascio questo qua ragazzi Perché ho paura di rovinare il bancone Quindi Allora Viti di tipo I Poi supporto che va inserito Con la leva verso l'esterno Quindi in questo modo Basta seguire la guida Perché l'inserto Non è dritto Ma è obliquo Quindi basta seguire La linea obliqua del componente Voilà Ci siamo Eccolo qua Ora nella parte elettrostante Con la vite di tipo I Andiamo a fissare questo componente Ok E fin qua Ci siamo Per la prossima fase di montaggio Ragazzi andiamo a recuperare Il supporto inferiore della catena Quindi quell'altro supporto Sempre una vite di tipo I E andiamo a Vedere la posizione di montaggio Si trova esattamente sotto Il codice del telaio Ok? Come lo potete vedere Qua c'è un codice del telaio Appena sotto Andiamo ad inserire il supporto Il supporto ha la sua forma Non potete sbagliare Perché vedete C'è proprio il suo disegno Quindi Esattamente Così Vedete? Track E sempre nella parte elettrostante Andiamo a fissarlo Con la vite di tipo I Ok Eccolo qua Supporto inferiore Supporto superiore Ok ragazzi Ora è arrivato il momento Di andare ad inserire Finalmente il lato sinistro Del telaio Sul blocco motore Quindi Prima andiamo a recuperare 4 le vite di tipo V Di Vicenza Che sono esattamente Quelle a brugola Ok? Eccoli qui Con la sua brugolina Quella che abbiamo All'interno della serie Della collezione Di Valentino Rossi Ora Disponiamo il motore Dal lato corretto Quindi sul lato sinistro Andiamo a notare prima Le posizioni delle viti Che sono 1 2 3 E 4 Ok? Quelle vicino al carter A sinistra E quelle Al lato sinistro Della ammortizzatore centrale Quindi andiamo a posizionare Il nostro telaio Il nostro lato di telaio In questo modo Forse così Va meglio Appoggiato così Va meglio E' anche vero Che forse è meglio Che cominciamo A inserire Le 4 viti Così almeno Possiamo andare A notare L'appoggio completo Va bene Dai Iniziamo a fissare Il telaio Poi ci vediamo Una volta che l'ho terminato Ok Ok ce l'ho fatta alla fine Ho dovuto cambiare La brugola Perché la brugola Vediamo a trattare Ammortizzato Andiamo a girare Andiamo a girare Il blocco motore E quindi Siamo nella zona di destra Dobbiamo andare Ad inserire Quello centrale Esattamente qui Nella parte più inferiore Del telaio Lato sinistro In questo modo La posizione corretta Andate a vedere Il foro Ok Quindi il foro È più tenente Sul lato destro Quindi andiamo a girare In modo corretto Il componente E lo andiamo ad inserire Sposto un attimo Il Il mono ammortizzatore E lo andiamo ad inserire Esattamente qua Vedete Trac Questo foro È quello che praticamente Tiene fisso Sia la parte centrale Del telaio Sul lato sinistro Quindi andiamo a recuperare Una vite di tipo B E andiamo a fissare Queste due componenti Con questa vite Che funge da passante In poche parole Allora Queste viti qua Sono pericolose Perché Mi ha preso Sì due fori Però Bisogna fare attenzione Di spannare la vite Perché Sto notando che Faccio molta fatica A tirarli Ora con questo No non ce la faccio Dio 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 Con il cacciavite Del originale Di Valentino Rossi No perché Mi è esploso Quindi 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 Proviamo quello Della Bugatti Qua cacciavite Che mi ha rimosso No Peggio Allora Facciamo una bella cosa Andiamo a risvitare La vite Vado a fare Il filetto Prima Su questo componente Perché è qua Che non mi entra E qua Che non mi è stata fatta La filettatura E quindi Devo sclerare Non so se queste clip Ve le metterò Giusto per farvi capire Vedete Fa molta fatica Ad inserirsi Guardate qua Che fatica Che sta facendo Piano piano La filettatura Si fa E quindi Ci siamo Oh Adesso fa lice Come il burro Queste viti qua Ragazzi Dovete stringerle Il più forte possibile Perché sono le viti Che tengono il telaio Ok La struttura Del vostro modellino Quindi Mi raccomando Assicuratevi Che le vite Siano Ben salde Scusate Ben salde Ok Dai Fin qua Ci siamo Allora Adesso mettiamo da parte Un attimo Il blocco motore E il telaio E andiamo a recuperare Il tubetto E l'innesto Del tubetto Ok Allora Questi qua Sono i componenti Nel fascicolo 40 Non 41 Quindi non Non Cerchiamo di Confondere i componenti Vedete che questo qua Nel fascicolo 41 È molto più lungo Rispetto a quello Del fascicolo 40 Questo Ed è il fascicolo 40 Quindi andiamo ad inserire Il tubetto Del fascicolo 40 All'interno Dell'innesto Che era sempre All'interno Del fascicolo 40 Ok Lo andiamo a inserire Fino in fondo In questo modo E questo Innesto Va inserito Andiamo a girare Il blocco motore Nella Zona corretta Va inserito Esattamente qui Vedete In questo perno Ed è l'unico perno Che viene in fuori Della testa Andiamo a inserire Il tubicino Vicino A questi componenti E poi Andiamo ad inserirlo Nel suo pernino Fino in fondo Ok Il tubicino Lo lasciamo Scendere verso Il fondo del blocco In questo modo Ora Quello che ci spiega Il fascicolo È quello di andare A recuperare Le due componenti Della traversa superiore Le due metà Della traversa superiore E andare ad unirle Anche qui ragazzi Molto molto semplice Abbiamo due fuori Due perni E quindi Li andiamo ad unire Uno E due E roba di plastica Quindi Sempre con delicatezza Tac E tac Voilà E ci siamo Il fascicolo 41 Ragazzi Termina così Eccolo qui E andiamo subito Al fascicolo 42 Partiamo subito Con fascicolo 42 Il terzo fascicolo Di questo episodio E questi sono I suoi componenti E qui andremo A trattare La monotrave Di destra Ovviamente Del telaio Quindi abbiamo La monotrave Di destra Il lato destro Un dado E viti Di tipo V Di Vicenza Iniziamo col montaggio Ora Partiamo con la prima fase Del montaggio E diciamo che Non dico che c'è un errore Però dice C'è una fase Che spiega sul fascicolo Che è quella di inserire Questo tubicino Da questo punto Alla testa Del blocco motore Ma in realtà Io l'avevo già fatto Precedentemente Forse perché c'era Già una spiegazione All'interno del fascicolo E qui invece Te lo fa rifare O forse perché Ce lo faceva staccare Ora non lo so Non me lo ricordo Però io l'ho lasciato collegato E comunque Questa era la prima fase Di montaggio La seconda fase di montaggio È quella di recuperare Il gruppo del serbatoio Dell'aria compressa E questo Dobbiamo andare a montarlo Nella fase Nella fase Nella zona Superiore Al mono ammortizzatore Quindi esattamente qui Vedete abbiamo i tre fori E se andiamo a vedere Nella parte inferiore Del compressore Abbiamo tre perni Quindi andiamo ad inserire Correttamente Così Con il perno Più centrale Verso il blocco E i due perni Verso l'ammortizzatore Ci siamo Eccolo qua Ora andiamo a collegare Un po' di tubicini Vi ricordate L'innesto Il tubo Che abbiamo inserito Prima sulla testa Andiamo a recuperare Il tubicino E questo va inserito Su uno dei perni Del compressore Quindi quello superiore Ok Non serve A fare tanta forza Perché altrimenti Il compressore Si smonta Perché è tutto In plastica Ed è anche Devo dire Di qualità Inferiore Rispetto al resto Dei componenti Però va bene così Ora andiamo a recuperare Il tubo da 100 mm Che era quello All'interno Del fascicolo 41 Vi ricordate Quello che vi ho mostrato Prima più lungo Questo va inserito Il primo La prima parte Va inserita Sul perno in ottone Superiore Nella zona superiore Della testa Quindi Uno Vola E quell'altro E quell'altro lato Invece va inserito Nel perno inferiore Del compressore Del compressore E qui ragazzi Se non riuscite A inserirlo Aiutatevi con una pinzetta Ma io ce la faccio Ora Questo tubo qua lungo Non so dove andrà a finire Lo scopriremo poi Più avanti Però questo qua Me lo fa passare Esattamente così Per essere più ordinato Eccolo qua Vedete Tubo da 100 mm Dalla testa Al perno inferiore Del compressore Tubo dell'innesto Dalla testa Al perno superiore Del compressore E ci siamo Come ultima fase di montaggio Recuperiamo La traversa superiore Quella in plastica Che abbiamo montato precedentemente E dobbiamo andare Ad inserirla Nel foro In questo foro Del telaio La posizione ragazzi È semplicissima Perché Insomma Sui lati Dell'inserimento Quindi sugli inserti Sono presenti Dei centraggi Quindi andiamo a inserire Il centraggio Nella posizione corretta E vula Andiamo a spingerlo Fino in fondo I fori devono essere rivolti Verso il frontale Del nostro modellino Della nostra moto Ecco qua Ci siamo E lo lasciamo appoggiato così Perché il fascicolo In realtà ragazzi Termina così Non ci spiega Nient'altro Quindi Anche il fascicolo 42 Eccolo qua Termina così Passiamo subito al 43 Quindi partiamo con Il penultimo fascicolo Di questo episodio Il numero 43 E questi sono i suoi componenti Semplici componenti Che prendono anche Il titolo del fascicolo Quindi Il perno del forcellone Il dado E il copri Dado Semplicissimo Vai Torniamo sul blocco motore E sul telaio Nella prima fase di montaggio Nel fascicolo 43 Andiamo praticamente Ad unire Le due monotravi Quindi quella sinistra Con quella di destra Prima di fare tutto ciò Però andiamo a recuperare Il dado Io qui ve li ho messi entrambi Perché il dado più grosso Fa parte del fascicolo 43 Ma quello che dobbiamo dare Di inserire Nella sezione Nella sezione anteriore Del monotrave Di sinistro Di sinistra È quello più piccolino Ok Anche perché è quello più grosso Non potete inserirlo Però per evitare di Siccome abbiamo Un sacco di componenti In giro adesso Che non stiamo montando È giusto che vi indichi Il dado giusto Molto semplice Il dado va inserito Sul lato sinistro Quindi sul monotrave Di sinistra In questo modo Vedete Lo appoggiamo Qua con delicatezza Lo spingiamo Fino in fondo E questo sistema Fa sì che Praticamente Tiene bloccato il dado Ora A dire il vero Bisogna metterlo dritto Quindi non con la punta Ma con la superficie piana Verso il basso Ok Esattamente così E ora possiamo andare A chiudere Con la monotrave Di destra L'altro lato Qui È inserito Ora andiamo a ricoperare Le altre brugoline E cominciamo A fissare la parte inferiore Così almeno Da lì non si muove Ok Vedete Una volta che tirate Comunque già Le viti Nella sua posizione corretta Queste qua Sono le due brugoline Quindi le V Di Vicenza Una volta che Già centrate Le sue viti giuste Già va in posizione Corretta Quindi prima vite Seconda vite Ora andiamo a fissare Anche Questa qui Facendo attenzione Anche a fissare Ad inserire Quello Il La trave Quella inferiore Ok Ora andiamo ad unire La zona Della forcella Mi ha preso Però prima di tirarle Entrambe Vado a fissare Anche quella inferiore Questo montaggio Non sarà velocizzato Perché Se c'è qualche problema Durante il montaggio Almeno lo vedete subito Ma no A dire il vero no Una volta che inserite Queste qui Queste più Praticamente più indietro Il Le due monotravi Si vanno a Piazzare Correttamente Nella fase corretta Insomma Nella posizione corretta Ora vado a tirare Tutte le viti Per bene Ci siamo Il dado È rimasto Lì dov'è Perfetto Ora Ultima occhiatina L'ultima cosa Che mi rimane È quella di andare A inserire Una vite Di tipo B Sulla trave Inferiore Quindi Qua Esattamente Qua Dov'è? Qua E questa Era quella Ragazzi Se vi ricordate Quella In cui ho dovuto Fare Il filetto Solo che In questo caso Non lo posso più fare Perché Il telaio è montato Quindi sperando Che Non mi crei Casini E si infili Correttamente Voila Ci siamo E le due Monotravi Le abbiamo Ufficialmente Unite Oh Guardate qua Trac Bellissimo Bellissimo Adesso che abbiamo Montato Entrambi Le monotravi Sembra anche Più leggero Non lo so Perché Da questa Sensazione Comunque Ci siamo Il fascicolo 43 Termina così Passiamo subito al fascicolo 44 E ultimo fascicolo di questo episodio Ed ecco l'ultimo fascicolo di questo episodio Il numero 44 E questi sono i suoi componenti Qui andremo a trattare Il leveraggio Dell'ammortizzatore posteriore Va bene I componenti sono La piastra di collegamento La barra di collegamento Poi abbiamo Le viti lunghe P Di Palermo Le viti corte N Di Napoli Il serbatoio di recupero E il gruppo valvole Iniziamo col montaggio Prima fase di montaggio Andiamo a recuperare La piastra La barra E una vite di tipo N Di Napoli Quindi la vite più corta Allora Dobbiamo andare ad inserire Praticamente La barra All'interno della piastra Allora Andiamo a vedere Che la piastra Non ha una forma Uguale Cioè Ha due lati diversi Il lato con la curva Lo rivolgiamo Verso l'alto La barra Come potete vedere Ha due componenti diversi In questo caso Sono saldati Perché il pezzo è unico Però abbiamo Il primo componente a sinistra Che è più lungo E quello più corto Quello che è più lungo E quello che deve andare Ad inserirsi All'interno Della piastra Quindi andiamo ad inserire All'interno della piastra Quindi in questo modo E poi Dobbiamo andare ad inserire La vite N Che funge da passante Ecco qua E andiamo a fissare Le due componenti Andiamo a stringere Anche tanto ragazzi Perché la piastra È in ferro Quindi anche se Andiamo a stringere Per bene Non andrà Ad intaccare Il movimento Della barra Ok E fin qua ci siamo Ora Andiamo a recuperare Di nuovo Il nostro blocco motore E ci concentriamo Sulla zona Del mono ammortizzatore La piastra va inserita Esattamente nella parte Inferiore del blocco motore Quindi nella parte Inferiore del blocco Del blocco Del Del telaio Quindi La piastra andrà a collegare Praticamente Il mono ammortizzatore Al telaio In questa maniera Andiamo ad inserire Questa sezione Nell'ammortizzatore Ok Ovviamente l'ammortizzatore Che entra nella piastra E questa sezione All'interno del telaio In questo modo Una volta centrato Correttamente Ricopriamo una vite Di tipo P Di Palermo E questo fungerà Da passante Insomma Entrerà All'interno del foro E uscirà Dall'altro lato In questo modo Ecco qua E collegherà Innanzitutto La piastra Allo chassis Quindi Alla scocca Anche qui ragazzi Possiamo andare a stringere bene Perché Entrambi i componenti Sono in ferro Quindi Non Non darà fastidio Al movimento Se andiamo a stringere per bene Anzi forse è meglio Che andiamo a stringere per bene Però in questo caso Non è Non è La forza Del Nello stringere Che Non fa ballare il componente Ma è proprio così Il componente Vabbè Non importa Lasciamolo così E fin qua Ci siamo ragazzi Ora Per quanto riguarda invece Il fissaggio Del lato del mora Amortizzatore Non c'è In questo fascicolo Non ce lo fa fare Magari più avanti Però per il momento Lo andiamo ad inserire Senza inserire alcuna vite Perché il fascicolo Ci spiega Di non montare Il mono Amortizzatore Sulla piastra Però comunque Adesso andiamo a Concentrarci Sul mono Amortizzatore Quindi andiamo a recuperare Il gruppo valvole E Il serbatoio di recupero Andiamo ad inserire Il gruppo valvole Con Questo perno Rivolto Rivolto Verso l'alto Quindi Così In questa zona Dell'ammortizzatore Ok E Il serbatoio di recupero Logicamente Va inserito Qui Sulla parte superiore Del gruppo E' una mezzaluna Quindi Impossibile sbagliare Ok Sì Voi magari Non fate come ho fatto io Magari inserite prima Il serbatoio di recupero Sulla valvola E poi inserite la valvola Sull'ammortizzatore Magari vi viene un po' più comodo Rispetto a come ho fatto io Comunque raga Ci siamo Ora vado a rinserire di nuovo Il mono amortizzatore Nella piastra E Ci siamo Il fascicolo 44 Ragazzi Termina così Come termina così Tutto l'episodio E quindi ci siamo Anche alla fine di questo video Ragazzi Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bel pollicione Anche se vi è d'aiuto Come video ragazzi Perché in fin di conti È un tutorial E ragazzi Io mi invito sempre Come sempre Ad iscrivervi al canale Perché è importantissimo Iscrivendovi al canale Lasciate un bel like Sfruttando i commenti Diciamo che date un bel supporto A questo canale E quindi Insomma Mi dà la possibilità Di continuare a portare Questi contenuti Allora Per quanto riguarda questa serie E innanzitutto ragazzi Vi rimarranno Questi componenti Che sono il perno Il dado Questo dado grosso Insomma Questi componenti Mettetevi da parte Perché non sono serviti In questo montaggio Insomma Nei montaggi all'interno Di questo video Quindi Non perdeteli Per quanto riguarda Invece la serie Noi ci vediamo Quando arrivano I prossimi componenti E nulla Io vi ringrazio Di aver visto questo video E soprattutto Di essere arrivati fin qui E noi ci vediamo Al prossimo Ci vediamo settimana prossima Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli